Ci troviamo alla chiesa dei Santi Apostoli dove abbiamo 5 campane che adesso ascolteremo per Campania Festa per San Giovanni, a presto! Ci troviamo sul campanile dei Santi Apostoli di Torino, abbiamo 5 campane che adesso ve le farò ascoltare nella suonata alla Ducale per Campania Festa per San Giovanni, organizzato dalla campanetò. Bene, allora sentiamo il suono del campanone. Sono 5 campane del Mazzola Roberto del 1989. Panorami purtroppo si vede poco, se non i nostri amici della campanetò che sono lì e si stanno preparando per fare un bel concerto. Bene, allora aspettiamo la Ducale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!